No, sbagliato! Cominciate a capo, dai! Dammi a me quel dito lì, ci ce lo metto io. Senti, provo a stare così. Tira un pochettino però anche il polso. Il polso, più... Vai. Sì. Vai, bravo, così va bene. No, ma un po' di Diner Blaine ha detto che... Non c'è un po' di questo. No, no. Questa è il bello? Se questo dito qui... Guarda e mi metto... E' un bianco. Ti fa da ponte per questi di qua. Siccome c'è un due oggi. Un due? General Lloyd. Dov'è? Dov'è? C'è sempre il gruppo. Che vuole la ticina? La reggiativa o il suo titolo? Ci vuole il gobbo, il gobbo ci vuole. Che l'ondra, eh? Dov'è? Faccio io il tuo. Faccio io. Lisi! Lisi! Vieni! Dov'è? Oh, bianco! Vado via bianco, ciao! Oh, bianco!